La Sampadoria si rilancia le sue speranze di salvezza. A Firenze la Viola si impone 5-0, pur senza grande continuità di gioco. La Vaglia si deve arrendere nel recupero del primo tempo, al diagonale al volo di Castrovillari. Al 62esimo Jovic non trova il tiro ma riesce a girare per Dodò che raddoppia. Subito dopo il 66esimo Dukan fa tris con una sventola dal limite, poker di Kurame, il 76esimo. In una partenza chiude Terzic, il 89esimo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao! Grazie a tutti!